La vita di coppia richiede tanti sacrifici, lo ha sottolineato il sindaco di Castiglion-Fibocchi Marco Ermini che ha premiato le coppie più longeve, ovvero quelle che nel piccolo centro hanno festeggiato i 50 anni di matrimonio. Ci spiega il senso dell'iniziativa proprio il primo cittadino del paese di Castiglion-Fibocchi. Il trucco è rinnamorarsi, rinnamorarsi e rinnamorarsi della stessa persona per i vostri 50 anni insieme ed oltre. L'amministrazione comunale 1971-2028. Oggi abbiamo festeggiato nella sala comunale i cinquantesimi celebrati nel 2021 delle coppie castiglionesi. L'amministrazione augura a tutti loro i più sentiti auguri per questo importante traguardo. Quando qualcuno si sposa nel paese, ha detto il sindaco, è una festa per tutti. A maggior ragione lo è per chi ha raggiunto questo fantastico traguardo. Un piccolo dono, certamente, ma molto sentito ed una bella iniziativa proprio nel giorno dell'Immacolata.